Ben ritrovati con le notizie in 60 secondi. La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di alerta meteo per temporali con criticità idrologica di livello giallo dalle 14 fino alle 23.59 di oggi mercoledì 28 agosto sull'intero territorio regionale. Nei giorni scorsi durante un controllo volto alla repressione del commercio di prodotti contraffatti, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 5.000 articoli contraffatti. A Procida il Comitato a tutela dei diritti fondamentali del cittadino, l'ospedale non si tocca, ha organizzato una manifestazione in mare per il 31 agosto 2024. Ma tutto in Campania il record annuale di nidificazione di caretta caretta, la regione si conferma anche nell'estate 2024 protagonista di questo evento straordinario. Calcio, la Salernitana batte e rimonta 3 a 2, la Santoria, la Recchi e l'allenatore ischitano Martuscello a fine gara non nasconde la sua soddisfazione, i ragazzi sono stati bravi a rientrare in gara. Prossimo appuntamento questa sera alle ore 20, grazie per averci seguito. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS